Ciao fragolini e ciao fragoline! Allora, voglio farvi vedere il mio frigor americano della Samsung. Allora, diciamo che è una recensione, per cui vi mostro il mio frigor, ma vi dico anche se mi trovo bene oppure no. Adesso ve lo faccio vedere, non è che ci metto tanto a farvelo vedere perché non è che vi faccio vedere chissà cosa, però volevo farvi vedere il mio frigor americano dopo tanti anni che volevo un frigor americano, sono riuscita a comprarlo. Calcolate che questo l'ho preso insieme alla cucina, per cui più o meno mi è costato sui 2000 euro. Ce n'era un altro che costava 3000 euro ed era molto grande, solo che non potevo, diciamo, prendere tutto. O prendevo il frigor americano più grande, oppure mi facevo fare la penisola. E alla fine ho fatto tutte e due, ma il frigor l'ho preso quello medio. Per adesso siamo in due, poi quando gli anni passano saremo di più. E il prezzo più o meno è quello sui 2000 euro, invece se lo volete ancora più grande sui 3000. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, questo è il mio frigor americano. che è molto grande ed è fatto così. Ovviamente marchio Samsung. Allora, di qua vi faccio vedere che qua c'è... va... qua potete prendere l'acqua e il ghiaccio. Il ghiaccio tritato e il ghiaccio normale. Allora, l'acqua ovviamente basta mettere sotto il bicchierino e esce l'acqua e potete bere. Poi c'è anche il ghiaccio che potete schiacciare. Questo è il ghiaccio e questo è il ghiaccio tritato. Potete scegliere uno di questi due. Calcolate che il ghiaccio è qua dentro, che si forma piano piano. Adesso è praticamente quasi pieno, per cui mi si forma il ghiaccio qua. E io lo posso prendere sia tritato che quasi normale, come vedete. Comunque nei vlog ve le faccio sempre vedere quando prendo il ghiaccio tritato, eccetera. E questo è il freezer. Questo è il mio, praticamente, pezzo di freezer, dove io ho adesso tutte le cose da mangiare, come vedete. Invece di qua è il frigor. Calcolate che può diventare sia frigor che freezer insieme. O lo fate diventare freezer tutto insieme, oppure frigor tutto insieme. Questo è il reparto frigor, che come vedete, vabbè, adesso c'è poca roba, perché stiamo finendo praticamente tutto. E c'è praticamente il frigor così, con i cassettini, che si apre. Fatto così, in poche parole. È bello grande, ci sta tanta roba. Ovviamente, se siamo in due, è un po' difficile riempirlo tutto, però poi quando saremo in tre, secondo me, ha voglia di riempirlo. Comunque, dipende. Anche con due persone, il frigoro lo riempie. Adesso lo vedete praticamente quasi vuoto, perché molte cose le abbiamo mangiate, non è che possono stare lì. Per cui adesso ve lo sto facendo vedere così, vi sto facendo vedere veloce. Qua c'è la temperatura, freezer e frigor. E poi dove schiacci, questo qua è touch, dove schiacci e regoli la temperatura di quanti gradi praticamente vuoi tra freezer e frigor. E questo è il mio frigor, che qua c'è anche il porta uova. Ed è molto comodo, specialmente perché risparmio un casino l'acqua. Io da quando ho questo non ho più preso bottiglie di plastica e sto bevendo praticamente dal frigor. E' comodissimo e risparmio un botto. In più anche per il ghiaccio è facile, perché non devi stare lì tutte le volte a riempire le vaschettine di ghiaccio per poi metterlo lì nel freezer. Invece così va automaticamente e quando è vuoto si riempie il serbatoio del ghiaccio. Ed è molto molto comodo questa macchinetta qua. Ed è fatto così. Adesso ve lo faccio vedere un po' più così, così me lo vedete bene. Ed è grande, spazioso. E' molto grande. Ovviamente non è che c'è tanto da vedere, comunque questa è una recensione dove vi dico cosa ne penso. Allora, da quando ce l'ho, che ormai sono quasi tre mesi da quando sono qua nella casa nuova, calcolate che mi sto trovando veramente bene, perché è comodissimo. Poi, appunto, come vi dicevo prima, risparmio un casino per l'acqua, perché all'inizio prendevo sempre le bottiglie di plastica e sono tanti soldi, perché sono 5 euro, cioè, a confezione, eccetera. Invece così la prendo da lì, riempio le bottiglie, quelle in vetro, che poi in un vlog vi farò vedere, e riempio sempre le bottiglie di vetro lì ed è un risparmio, diciamo, tanto risparmio. Così anche non fai fatica a portare le bottiglie, quando sei fuori devi fare la spesa, eccetera, eccetera. Stessa cosa il ghiaccio. Tra poco arriverà l'estate, per cui il ghiaccio lo userò tantissimo, specialmente per fare gli aperitivi, per bere qualcosa di fresco, cioè, per cui come vedete è molto molto utile. Adesso vi faccio vedere con un bicchiere, così almeno, però, allora, schiaccio qua, che c'è scritto ghiaccio, metto dentro, sotto, allora, se non mettete sotto il bicchiere, non va, dovete prendere il bicchiere, schiacciare questo, e ovviamente vi scende il ghiaccio. Ed è molto molto semplice, molto facile da utilizzare, se no c'è quello che, praticamente, per fare la granita. E vi trita il ghiaccio per fare la granita. Come avete visto, fa ghiaccio, e in più potete fare anche la granita, per cui è comodissimo, semplice, infatti ogni volta, ma anche adesso, io adesso, per fare il tè freddo, alla macchinetta, che poi vedete anche il video, o l'avete già visto, non mi ricordo, è molto utile, perché è veloce, prendi il ghiaccio e via. Per cui è semplicissimo, è molto molto utile. Secondo me, anche per due persone va bene, cioè noi siamo in due, dipende poi se la vostra cucina è grande o piccola. La mia è media, non è enorme, però diciamo che il frigor c'è stato, è comodissimo, mi sto trovando bene e sono soddisfatta della mia scelta. E' promosso questo frigor americano, per cui ve lo straconsiglio se vi piace il frigor americano. E niente, credo che vi ho detto tutto, vi ho fatto vedere il frigor. Non c'è niente da dire, perché vi ho già detto tutto e poi, ripeto, mi sto veramente veramente trovando bene da quando sono qua. Ed è comodissimo, risparmio tanto, ma molto. Cioè, più risparmio di così, questo voglio di più. E basta. Di sicuro, scrivendo i commenti, come per dire, siete in due, come mai è preso questo frigor, non ha senso, bla bla bla. Che, tanto, per chi mi scriverà queste cagate verranno cancellati, perché non hanno... Cioè, uno fa quello che vuole. Per cui, non ho bisogno delle persone che mi dicono, eh, ma non è niente da fare a prendere il frigor grande, eccetera. Perché so che riceverò questi commenti. E ripeto, adesso siamo in due. Poi arriveranno i figli. Cioè, meglio avere una cosa grande che avere una cosa piccolina. Perché questo frigor durerà per tanti anni. Appunto. E sono orgogliosa della mia scelta e del mio acquisto con, appunto, con la cucina che ho comprato. Detto questo, io mi vado a bere un bel tè freddo. Anche se fa freddo, ma chi se ne frega. Con il ghiaccio. Adesso mi faccio un bel tè freddino. E della macchinetta, questa qua, che vi ho fatto già al video, dove vi ho fatto vedere come si usa. Adesso non mi ricordo se lo vedete prima di questo video, dopo, vabbè. Comunque, niente. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.